A seguito di alcuni controlli svolti dagli uffici comunali sui pagamenti e servizi resi dal mote nei confronti del comune di Montorio, sono emerse fatture senza alcuna rendicontazione e quindi senza ore effettivamente svolte e attività realizzate. E' questa la motivazione che ha spinto il comune montorriese a sospendere il contratto con il mote ambiente SPA, la società che si occupa dei servizi ambientali per diversi comuni in provincia di Teramo. Ci siamo accorti in questo periodo che le rendicontazioni, cioè i servizi, le prestazioni che il comune richiedeva rispetto alle fatture, quindi si chiama rendicontazione per legge, era quasi un dare forfettario. Abbiamo approfondito e tanti servizi pagati dal comune non venivano effettuati, ci sono delle mancanze gravi per l'indate in pienza e quindi abbiamo bloccato da subito il servizio manutenzione che tra l'altro non avveniva nei fatti. E poi nei prossimi mesi ci sarà la gara competitiva che farà l'Agir per i servizi ambientali. Il Consiglio Comunale porteremo la delibera per uscire dal mote. Inoltre il sindaco ha voluto precisare che il mote utilizzava strutture e mezzi del comune senza alcuna convenzione e in maniera gratuita. Considerate pure che per quanto riguarda le manutenzioni il mote usava attrezzature del comune, capannone del comune, mezzi del comune in maniera gratuita senza convenzione, ma addirittura anche il materiale di consumo dei fornitori, ferramenta, benzina e quant'altro non è pagato al comune di Montoro. Quindi incongruenze che verificando in questi mesi ci siamo accorti, abbiamo chiesto dei lumi, però il lume che è arrivato è una letterina di un avvocato. Una manovra che per il sindaco Montorriese porterà ad una probabile riduzione del costo dell'Atari per i cittadini. L'obiettivo è quello, vi faccio un esempio, le buste, consegna delle buste, ecosportello, costo 100.000 euro all'anno, 21.000 euro per le buste, 36.000 euro per la distribuzione, circa 15.000 euro per il calendario e 10.000 euro costi amministrativi e più qualcosa, anche lì stiamo chiedendo lumi, eliminando solo questa voce di spesa assurda e demenziale perché le buste la prendono solo il 10% delle utenze etarie ai 100.000 euro in meno a carico dei cittadini.